Ciao amici fungaroli e amici dei porcini, Gigi Fois dalla Sardegna, ve l'avate dimenticati, vero? E invece noi abbiamo fatto la prima uscita primaverile, oggi è 20 febbraio 2013, abbiamo raccolto una decina di chili di funghi di cisto su godoline murdegui, sardo, e questo è il fungo dei nostri nonni e dei nostri padri, molto molto ricercato dai raccoglitori locali, diciamo che è il parente povero del porcino, è la stessa famiglia, è un boletus, un boletus corsicus o sardus, bellini, questi noi li facciamo sottolio, belli su di soli piccoletti, guardate, sembrano dei porcini, dei porcini in miniatura, guardate, sono molto carini, molto bellini, guardate, questi una sbollentatura, infatti sottolio sono ottimi, invece questi non li facciamo fritti o arrosto, ma sono degli ottimi funghi, guardate, belli belli, asciutti asciutti, fitti fitti, questi sono usciti favoriti dalle abbonanti piogge di questo periodo e dalle temperature mitti, buone, guardate un po', ci siamo divertiti, gente tantissima, arriva prima la gente che è il fungo in queste zone qua, però noi ci difendiamo sempre, questa è la prima uscita del 2013, tra un mesetto iniziamo con la raccolta dei funghi di carne era basata, il boletus, questo è il nostro regno, eh amici, eh, e vi faremo vedere le prossime raccolte, per adesso ci accontentiamo di questo, la nata promette bene, promette bene, bene, quindi speriamo di, di, di trovarne ancora tanti e di divertirci e vi faremo sapere e vedere, ciao, tante saluti da...